E' consultabile online sul sito web istituzionale dell'ARPACAL il report annuale riferito al 2020 della qualità dell'aria in Calabria. Si tratta di due rapporti inviati alla Regione Calabria ed una relazione esplicativa a cura del gruppo di lavoro che cura l'ARPACAL per conto della Regione, tutte le attività riconducibili alla gestione della rete regionale per la qualità dell'aria. I dati acquisiti e validati, riferiscono i tecnici di ARPACAL in Calabria, la qualità dell'aria gode di buona salute. Nel 2020, in tutte le stazioni di monitoraggio gestite da ARPACAL, i dati sugli inquinamenti lasciati in atmosfera non hanno superato i limiti previsti dai decreti legge. Con riguardo all'andamento dell'ozono, uno dei parametri monitorati dalla rete regionale, alcuni parametri ne influenzano l'accumulo in modo tale da presentare il superamento dell'obiettivo a lungo termine nel periodo tardo-primaverile-estivo. Ad attestare questa tendenza è la stazione di monitoraggio di Mammola, in provincia di Reggio, che nel piano di valutazione regionale riveste un particolare ruolo di sentinella della qualità dell'aria in Calabria. Dunque, nessun superamento delle emissioni di ozono per quanto riguarda invece i limiti previsti per la soglia di informazione e la soglia di allarme. L'andamento dell'inquinante su base temporale giornariela garantisce, anche nei picchi orari più sensibili, i parametri stabiliti dalla legge per la protezione della salute umana. Anche nel 2020, come per il 2019 in Calabria, così come nelle altre regioni, è stata registrata una significativa diminuzione della concentrazione media degli inquinanti, sia quelli principali elevati alla rete regionale di monitoraggio che quelli secondari riscontrabili, attraverso un'analisi di laboratorio in corrispondenza proprio nel periodo di lockdown. Attraverso le agenzie ambientali e le istituzioni di ricerca, incluse quelle del settore sanitario, affermato il direttore generale dell'ARPACAL, il dottor Domenico Pappaterra, si possono individuare, sotto lecita dell'ISPRA, le migliori strategie anche per mitigare gli effetti del clima sulla qualità dell'aria. Il direttore scientifico dell'ARPACAL, il dottor Michelangelo Iannone, spiega sulla base dell'esperienza di altre agenzie, emerge l'opportunità di riuscire ad integrare l'attuale monitoraggio degli inquinanti con dati ancora più dettagliati circa le sorgenti emissive.